Guepequeno Instagram Video. Sono caduto nuovo su esso, cantavo Achille Lauro a Guepequeno dopo l'ennesima gaff fatta sui social network nelle ultime ore. Concorrendo il sito musicale Oh Music Italia. Il cantante domenica intorno alle 6 domenica 26 marzo 2023 avrebbe pubblicato per errore un nuovo video caldo sul suo profilo ufficiale instagram.iusmariruano. Da cui aveva una figlia nel 2021?iusmarie ha 31 anni e i due sono sposati. I primi scatti dei due risalgono al 2019 quando sono apparsi insieme ai loro amici di di fine leotta e daniele scardina. Dopo la nascita della ragazza, sia la cantante cheiusmarie non ne ho pubblicati foto e per non parlare della figlia sui social network, almeno fino alla festa del padre del 2022. Guepequeno Instagram Video e Vanek commenti sul web ovviamente il video è stato prontamente rimosso dal profilo, tuttavia ci sono quelli che lo hanno visto e diffuso le notizie sul web. In realtà non siamo sorpresi, come nel 2017 l'artista aveva commesso un errore simile. In quel caso aveva pubblicato un video in cui si masturbava e anche in quel caso lo cancellava immediatamente. Ma quel tempo alcuni utenti erano riusciti a scaricarlo prima della rimozione e quindi lo avevano diffuso allo stesso modo, rendendolo virale in pochi minuti. Non è una coincidenza che nella canzone Adios di Emis a cui appare come una caratteristica, canta uscia il c asterisco asterisco o nelle storie non fosse un dramma. Letteralmente pesca in faccia tutta Italia. Eppure sembra che anche questa volta il video in questione sia stato scaricato e diffuso in rete. Come evidenziato da alcuni utenti dai commenti su Twitter ho visto il video di Guepequeno. È così pazzo che non credo, Giuseppe 26 marzo 2023 ho appena visto il video di Guepequeno.pic.twittermcfzakkin. Matteo 26 marzo 2023 ho appena visto il video di Guepequeno.pic.twitterngc3br3wm9. Davide 26 marzo 2023 e devo dire molto interessante il video di Guepequeno, Pemberton 26 marzo 2023 bowguys. Ha trovato un nuovo video caldo di Guepequeno che aveva pubblicato nelle storie IG e poi rimosso. Questi colpi di maiale ubriachi di nuovo. Paluzzo.